In questo breve tutorial vorrei tornare a parlare di una funzione specifica del nostro forum. Si tratta della possibilità di pubblicare un proprio evento, come indicato dal riquadro giallo, e quali eventi possiamo noi autopromuovere, concerti, masterclass ed eventi online molto frequenti in questo periodo. Quello che scriviamo può essere poi condiviso sulle varie piattaforme e sui social. Ed ecco come può essere confezionato un post. Può esserci testo, ma anche link che rimandano a risorse online, come indicato dalla freccia rossa. Possiamo inserire delle immagini e possiamo addirittura inserire dei video. Questa funzione ci consente di avere una visibilità internazionale e il tutto in maniera assolutamente gratuita.